Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. L'universo calcistico è in fermento, e anche l'Inter si muove con decisione sul mercato. A spiegarcelo è Niccolò Ceccarini nel suo incisivo editoriale su TMV. La beneamata è al centro dell'attenzione, con una strategia chiara e ambizioni ben definite. Parlando del reparto portieri, un nome sta emergendo con forza, Bento. Ceccarini rivela che, nonostante le difficoltà estive con l'atletico paranaense, la trattativa è in corso e potrebbe finalmente decollare. Con almeno 10 milioni di euro in ballo, il portiere ha già dato il suo sì all'Inter, semplificando la situazione. I prossimi mesi si preannunciano cruciali per cementare un accordo che potrebbe trasformare il reparto difensivo nerazzurro. Mentre sul fronte Mkhitaryan, la tanto attesa fumata bianca per il rinnovo è imminente. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, poiché la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. E non è finita qui. L'Inter prosegue con determinazione le trattative per l'accordo con Dumfries, anche se i tempi si prevedono più lunghi. Siamo dunque di fronte a una fase cruciale per l'Inter sul mercato, con i tifosi che non vedono l'ora di celebrare i nuovi innesti di qualità. Restate sintonizzati, perché il futuro nerazzurro si annuncia entusiasmante.